Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Parliamo quest'oggi di ciclismo. L'ospite della serata è un giovane ciclista italiano, Bormino, che si è trasferito da un annetto in Spagna perché è membro della Contador Fondation Team, una squadra ovviamente di Alberto Contador, una grande esperienza per Daniele Cantoni. Ciao Daniele. Ciao, buonasera a tutti voi e vi ringrazio per essere qua. Grazie a te. Accennavo appunto questa grande opportunità che ti sei presentata un paio nemmeno d'anni fa, pedalavi lungo le strade di Bormio, guarda ce la racconti tu, però un futuro, un presente e si spera anche un futuro da ciclista professionista. Raccontaci pure la tua avventura. Sì, c'era l'evento organizzato da RH a Bormio con Alberto Contador che era il protagonista e si scalava il Gavia al Mortirolo. Io quel giorno sono andato per cercare di rimanere il più a lungo possibile la sua ruota e così ho conosciuto Fran e suo fratello e lui. Poi l'anno dopo è stato riorganizzato l'evento, però questa volta era di una settimana e c'era tutta la sua squadra che doveva pedalare sulle nostre strade e così mi hanno chiesto se avrei voluto accompagnarli per fargli conoscere appunto le strade di Bormio e le varie salite, il Mortirolo, lo Stelvio e così. Io ho subito accettato e sono andato assieme e vedendo un po' che comunque riuscivo a rimanere assieme ai loro atleti più forti. Che era la squadra continental? Era la squadra under 23 e c'era parte della squadra signores anche. Vedendo appunto che rimanevo con i suoi atleti più forti mi hanno chiesto se l'anno dopo avrei voluto iniziare a correre con loro che sarebbero stati contenti e gli ho subito detto che se per loro era possibile io sarei andato di corsa. E così è stata. Ti senti grato alla grande tanto che parli italiano ma hai già una grande cadenza spagnola quindi penso che tu ti senti grato alla grande e in Spagna tu ci stia bene. Sì 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 in Spagna il clima è differente tante cose sono differenti rispetto a qua però è come essere in una seconda famiglia perché sono tutti gentilissimi e non ti fanno mai mancare niente appena c'è qualcosa che hai bisogno ti aiutano sempre e sono veramente incredibili come comportamento e tutte le cose che fanno. Facciamo ancora un passo indietro e capiamo bene come ci sei arrivato a Pinto se non sbaglio è la sede vicino a Madrid. Come ci sei arrivato? Insomma Contador ti ha detto vuoi essere uno dei miei tu non ci hai pensato due volte anche perché avevi degli impegni a Bormio, andavi a scuola, facevi una professione oppure la tua società di allora ti ha dato carta bianca? No, io eravamo il giorno che avevamo scalato il Gavia e alla domenica io avrei dovuto andare a correre e chiamai la mia squadra per chiedergli se avrei potuto non correre e fare il mortirolo assieme che era il giorno dopo. Che era l'alzata e Brianza la tua squadra? Era GS Massi. Ok, una squadra bergamasca? Bergamasca sì. E solo che la gara che c'era era stata diciamo scelta per le mie caratteristiche e non mi hanno lasciato rimanere a Bormio con Contador e appunto il pomeriggio mi aveva chiamato nella sua camera a chiedermi appunto a dirmi se avrei voluto andare a correre l'anno successivo con lui e io gli ho detto subito di sì e... Alberto Contador in persona ti chiamava? Sì, sì, sì. Wow, che emozione. E io ero là nella sua camera così tutto anche tremolante perché comunque è un personaggio come lui che ha vinto di tutto e chiama nella sua camera per chiedermi se voglio andare a correre e... In che lingua vi siete parlati? No, lo abbiamo parlato in italiano. Ah, ok. Sì, sì, sì. Quindi avevi capito bene? Sì, sì, ho capito bene, non era un sogno. Certo, veramente, che poi è veramente un sogno realizzato, quindi non ci hai pensato, ok, hai detto sì. E quindi quando è cominciata l'avventura? È cominciata nel 2016 e abbiamo fatto un primo ritiro a gennaio dove ci hanno dato tutto il materiale, tutte le bici e abbiamo avuto già l'occasione di pedalare con Contador e subito in quel giorno ci ha dato tanti consigli per l'annata e come affrontare varie gare. E sono stati veramente importanti perché molte volte abbiamo avuto modo per metterli in pratica e tante volte abbiamo anche vinto con i suoi consigli. Eri l'unico italiano? Sì, nel 2016 ero l'unico italiano. Hai fatto il viaggio da solo? Sì. Da solo, quindi sei arrivato, ti sei arrecato nella sede. Quando hai visto, presumo, gli scatoloni di abbigliamento, di bici, del materiale tecnico, che cosa hai detto, che cosa hai pensato? È un sogno. È un sogno, sì. Dopo, rispetto a tutte le squadre dove ero stato a correre qua in Italia, il materiale era, il top era tre volte di più rispetto a quello che ci davano qua e sembrava di essere come un bambino quando gli dai le caramelle era uguale. Un bambino giorno di Natale però all'ennesima potenza. Quindi i primi raduni, in Spagna naturalmente, che zona è? Dove abiti? Abitiamo a Pinto, che è il paese di Alberto Contatore, a 20 km da Madrid e dopo ci spostiamo un po' in tutta la Spagna per le gare, usciamo anche in Francia, Italia e così. Mi accennavi ai microfoni spenti, è una zona abbastanza pianeggiante, quindi per trovare le montagne è un po' un problema. Sì, diciamo che a me che piacciono le montagne è un po' complicato, però facendo anche tanti ritiri andiamo anche in posti dove ci sono montagne, allora è già più divertente anche per me e per i compagni che gli piace la salita. Quindi è una squadra Under-23 ed è composta da atleti oltre a te italiano, spagnoli oppure provenienti da altre nazioni? Il primo anno era composta solo da atleti spagnoli e io, invece da quest'anno c'è stato anche un portoghese e un inglese e adesso piano piano si stanno allargando per cercare di prendere anche altri ragazzi di altre nazionalità. Che lingue parlate tra di voi? Maggiormente lo spagnolo, dopo certi compagni che sanno anche meglio l'inglese parlano anche l'inglese, però maggiormente lo spagnolo. Bene, dai, comunque è un'esperienza anche a livello così culturale per te, fantastica. Veramente una manna, una manna dal cielo, soprattutto alla tua giovane età. Dopodiché, dopo i primi raduni, allenamenti, le prime gare in Europa, anche fuori dal continente? Per il momento abbiamo corso solo in Europa, in Italia, Francia, Portogallo e in Belgio anche. È importante correre all'estero perché comunque c'è molta differenza e si vede che cambia il ritmo, cambiano tante cose. Daniele, facciamo capire chi ci segue da casa, che tipo di gare svolgete? Ma, ad esempio, quest'anno abbiamo corso, la prima corsa dell'anno è stata il Giro di Normandia, che c'erano, quasi tutte le squadre erano continental e professioniste. Che spieghi la differenza tra continental e professionistiche? Le squadre continental sono delle squadre che possono avere corridori sia under 23 che è anche di maggiore età e corrono con i professionisti e in più i corridori under 23 possono correre anche con solo le gare under 23. Ok. E le squadre professioniste sono proprio i professionisti che fanno solo un calendario professionista con anche le corse World Tour e tutte le corse più importanti al mondo. Quale di queste gare che hai svolto quest'anno è quella che ti è più piaciuta, quella più emozionante o quella magari dove hai ottenuto il risultato maggiore? Ma, per me la più bella, la più importante è il Giro a Valle d'Aosta, perché è qua in Italia, è tre anni che la corro, è una corsa per scalatori e è veramente impressionante anche l'ambiente che c'è, perché comunque chi la vince è sicuro che al 90% l'anno dopo è professionista. Sì, è il trampolino di lancio effettivamente per i giovani per entrare nel mondo professionistico e in più si denotano gli scalatori. Tu sei scalatore puro, Daniele? Sì, a me piace, maggiormente piace la salita, anche perché abitando a Bormio sono anche fortunato e privilegiato di poter scalare anche lo Stelvio, il Gavia e il Mortiro quando voglio. Assolutamente. Ora sei a casa per un certo periodo oppure sei in partenza? No, adesso prevalentemente da metà settembre, fine settembre fino a novembre, dicembre, rimaniamo a casa e facciamo le prime due o tre settimane un periodo di riposo completo e poi piano piano ricominciamo gli allenamenti andando a camminare, in palestra o a nuotare. Dipende un po' da ogni corridore cosa gli piace di più e così facciamo questo allenamento per ricominciare. Riesci ad andare in bicicletta anche nei mesi novembre e dicembre a Bormio? Sì, diciamo che se non nevica tanto fino a Tirano, Sondalo, è un po' più freschina, però si riesce comunque ad andare. Hai dei compagni di allenamento o ti alleni da solo? No, solitamente mi alleno da solo, però dopo qualche volta incontro ciclamatori di Bormio e vado assieme a loro quando facciamo qualche passeggiata, così ci divertiamo e è anche un modo per staccare e rilassarsi un po' di più. Beh, certo. Dopodiché gennaio parti, ti chiamano e vai e torna in Spagna? Sì, di solito i primi di gennaio ci lasciano finire le feste a casa e poi ci chiamano e andiamo tutti in ritiro e cominciamo e da lì fino a settembre gare, allenamenti e ritiri e siamo sempre assieme. Certo. Avete una base, avete un centro? Dove alloggiate? La base per gli allenamenti così rimane sempre a Pinto, anche se poi ci spostiamo, ogni tanto andiamo nella zona di Valencia, ogni tanto andiamo nei Paesi Baschi a fare allenamento e giriamo un po' tutta la Spagna. Ok. Siete appunto in appartamento, in hotel, c'è un centro specifico? No, siamo in una casa e ci arrangiamo, facciamo noi da mangiare e ci divertiamo anche alla fine. Beh, siete anche adesso, da adesso andavanti, anche ragazzi provenienti da varie nazioni, magari fate un mix di culture gastronomiche. Sei cuoco? Ti piace cucinare? Sì, diciamo che anche sul cucinare ci alterniamo, ogni tanto mangiamo, facciamo un po' di cucina italiana, ogni tanto inglese, ogni tanto portoghese, variamo abbastanza. Come sei nato ciclista, Daniele? Ma io in bici diciamo che sono sempre andato, però andavo a fare delle passeggiate così per divertirmi senza fare gare. Poi nel 2012 sono stato chiamato dal GS Alzate Brianza e da lì ho cominciato a correre e dopo non ho più smesso fino adesso. Ok, sei stato chiamato addirittura dalla società della Brianza perché comunque ti hai rimesso in mostra, presumo. Sì, 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 erano anche loro, ritirò a Bormio una settimana e io li avevo incontrati, ero andato due o tre volte assieme e poi mi hanno chiesto se volevo correre e gli ho detto di sì. Comunque era sempre, diciamo, da quando ho cominciato ad andare in bici un po' seriamente, dai 12-13 anni, era sempre stato un po' un sogno iniziare a correre e finalmente si era avverato. Sei sempre stato un ciclista tesserato per la società della bassa e media Lombardia, mai un sbormiese per dire o le società nostre dell'Alta Valle? No, diciamo che fino a quando non ho cominciato a correre andavo in bici però senza fare gare, senza essere tesserato, andavo per divertirmi e basta. Torniamo in Spagna, avete l'occasione spesso di pedalare a fianco di Contador? Adesso che correva lo vedevamo un po' meno però da questo anno che ha finito di correre sicuramente lo vedremo molto di più e verrà tante volte anche allenarsi con noi abitando a Pinto e ci darà ancora tanti consigli perché comunque con quello che ha vinto può permettersi di darci tutti quei consigli che saranno utili. Anche perché comunque la società è sua in pratica? Sì, la società è sua, è stata creata e voluta da lui assieme al fratello per aiutare un po' tutti i giovani corridori in Spagna e anche da altre nazioni e poi anche per combattere l'Itus che è una malattia che ha sofferto lui e anche per questo è stata creata. Ah, quindi ha anche uno scopo benefico. Certo, uno scopo benefico, beh cavolo. Sì, sì. Che tipo è questo pistolero, questo Alberto Contador? Ma è una persona alla fine uguale a tutti però è considerato un idolo perché comunque è così è sempre molto gentile, è molto disponibile, se gli chiedi qualcosa appena può te la fa senza dirti mai niente e anche solo parlarci assieme o così è veramente incredibile perché è un vero campione in tutto. Certo. C'è un altro personaggio del ciclismo che ti piace? Oltre presumo, Contador ovviamente. Ma che mi piaceva era Pantani anche se non ho mai avuto l'opportunità di vederlo. Ho visto tante cassettine sue e DVD e nello stile e come andava in salita era un po' simile a Contador. Certo. Dei tempi moderni diciamo? Dei tempi moderni c'è Michel Landa che è sempre spagnolo e è un buon scalatore anche lui e vedremo se sarà in grado di emozionarci come ha fatto Contador. Assolutamente. Hai visto il recente mondiale di Bergen in Norvegia. Ha vinto questo guascone. Peter Sagan, cosa ne pensi? Ma Sagan è un personaggio che al ciclismo fa molto bene perché soffre pochissimo la pressione e è sempre sorridente, è sempre allegro e se vince è bene, se non vince non si abbatte, ti parla comunque, ti risponde ai giornalisti, è sempre disponibile sia che vince sia che perde. Sì, la vive con una certa leggerezza e forse questo è il segreto di una non pressione mentale che gli fa fare un po' quello che vuole. Cosa ne pensi invece della sicurezza stradale? Tu sei sempre in giro sulle strade, cosa ne pensi in Italia, in Spagna, com'è innanzitutto la realtà e se si può migliorare? Ma sulla sicurezza stradale si potrebbe parlare per ore perché è sempre un tema molto toccato e tutto. E' vero che tante volte noi ciclisti andiamo in fila di due, siamo anche in mezzo strada, però io penso che gli automobilisti e tutti potrebbero anche darci un po' più rispetto perché comunque noi siamo in bici e se succede qualcosa i primi che ci vanno di mezzo siamo noi perché non abbiamo protezioni, non abbiamo niente. Com'è la situazione in Spagna? In Spagna è circa come in Italia, alla fine cambia poco. Quindi è un po' un far west. Sì, sì, tante cose sono lasciate correre senza problemi. In quale nazione invece pensi ci sia il massimo rispetto per i ciclisti? Secondo me in Olanda, in Belgio, in paesi che comunque da sempre hanno una tradizione ciclistica e lì è molto più rigide, anche le regole, ci sono meno incidenti. Ci sono anche più piste ciclabili assolutamente, però anche il professionista che pedale in strada ha una distanza di sicurezza dall'automobilista e viceversa. Quindi quando correte nei paesi del nord, più di un ciclista professionista qua seduto a vita da treta, mi ha detto che l'emozione del tifo olandese, belga, è veramente da pelle d'oca. È così? È così, sì. Loro lo vivono in una maniera diversa. Per loro è lo sport principale. A differenza dell'Italia o della Spagna che è il calcio, loro là il ciclismo è come la loro vita. perché comunque vanno sempre in bici anche per andare a lavorare e tutte queste cose qua e lo vivono in maniera diversa e correre là è sempre emozionante. Classe 1996, quindi hai 21 anni, giovanissimo, hai qualche hobby. Che cosa fai quando non pedali? Quando non pedalo di solito vado a fare qualche camminata con i cani o comunque sempre rimanendo nella natura e cercando di liberare al massimo la mente e divertirsi. Segui anche qualche altro sport? No, solitamente no. Cammino, camminare, bici e poco di più. No, nel senso se sei tifoso di calcio, se c'è uno sport che ti appassiona di fuori dal ciclismo? No, per il momento è solo il ciclismo. Beh, insomma, la tua vita. Dove vorrai arrivare? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Ma prima di tutto il sogno sarebbe arrivare a essere un corridore professionista e poi se è possibile, se sarà possibile, provare a vincere un grande giro. Te lo auguriamo davvero di cuore. Daniele, siamo in conclusione. Grazie per essere venuto qui a Livigno a trovarci e davvero un grosso in bocca al lupo. Grazie a voi e crepi il lupo. Grazie. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione. Vi rimando mercoledì prossimo. Buona serata.